Sotto il profilo dei numeri siamo vicini al sold out, adesso attendiamo le notizie, siamo emozionati ma siamo anche un po' tristi per quello che è successo poche ore fa a Monaco. È una ombra che viene gettata in questo inizio ma io credo che la risposta più forte è proprio quello di lavorare sul sentimento, la sensibilità, la cultura delle persone e credo che questa sia una delle risposte. È una grandissima stima di tutto il sistema che produce questo spettacolo, sapere che la risposta del pubblico è stata molto forte, è il premio di un lavoro importante in questi anni che ha sepputo ottenere alto la qualità del prodotto che qui viene offerto e quindi di riflesso dare una grande immagine dello spettacolo e delle marche. Ma come mai qui a Macerata lo Sferisterio? Beh, lo Sferisterio è una delle occasioni più belle che ci sia in Italia per gli amanti dell'opera ma insomma abbiamo fatto apposta questo incontro oggi della Fondazione Merloni ad Ancona per poter venire stasera allo Sferisterio. Macerata, lo Sferisterio, come mai qui questa sera? Per divertirvi. Innovazione e sperimentazione stilistica sono la cifra della 52esima stagione lirica del Macerata Opera Festival che si è aperta con l'Otello. È la quinta stagione sotto la guida di Francesco Micheli. Grande successo per la prima dell'Otello, lo spettacolo realizzato dal regista spagnolo Paco Azzorini e diretto dal maestro Riccardo Frizza. In scena tra i protagonisti il soprano Jessica Nuccio al ritorno allo Sferisterio dopo il rigoletto dello scorso anno, il tenore americano nel ruolo di Otello Stuart Neill, Riccardo Frontali, Tam Tantarieli e il giovane civitanovese Davide Giusti. In buca l'orchestra filarmonica marchigiana e il quadro si completa con il coro ririco Bellini diretto dal maestro Carlo Moranti.